Vorrebbe partecipare attivamente alla vita sociale più di quanto lo stia facendo ora, andare a teatro, ai concerti, agli incontri e spettacoli di vario genere, ma trovare i biglietti per Giorgia Righi, 23 anni, studentessa universitaria del Gallo di Petriano con disabilità, è un'impresa ardua, spesso difficile se non impossibile. Giorgia a 9 anni ha scoperto di avere una patologia neurodegenerativa e da quando ne ha 12 si muove in carrozzina. I momenti bui li ha sempre affrontati con la grinta che le appartiene, la stessa che l'ha portata tre anni fa a scrivere il libro Vivere Volando. Non so dove stia andando, nemmeno in che luogo mi trovi ora, scrive Giorgia, ma mi sento leggera e libera, come non mi sono mai sentita prima. Volo. La sua seconda casa è la piscina, spesso in acqua a nuotare oppure sul piano vasca come giudice di gara. Oggi l'appello, forte e chiaro, Giorgia lo fa alle istituzioni. Io sono una studentessa di scienze amatorie, un'istruttrice e giudice di nuoto e sono appassionata di arte e sport, quindi mi piace tantissimo partecipare dal vivo agli eventi. Non è sempre facile e tutt'altro, perché ha una disabilità, perché i biglietti degli eventi non sono mai facilmente trovabili. È sempre un'impresa capire chi se ne occupa, se l'ufficio adatto piuttosto che l'organizzatore o il palazzetto e non viene mai indicato un contatto da chiamare. Quindi noi disabili siamo sempre alla ricerca, spendendo tanto tempo ed energie per poi magari arrivare sotto la data del concerto e non avere più biglietti disponibili perché sono terminati. Quindi immagino ti sia capitato tante volte di dover rinunciare. Sì, tantissime volte perché è un problema che dura da sempre in tutta Italia e purtroppo ancora oggi per i concerti e i giorni è la stessa situazione. Vorrei chiedere alle istituzioni, alle persone che si occupano di agenzie di rivendita a biglietti, che la vendita dei disabili sia standardizzata come tutti, in cui anche su un semplice sito si possa acquistare biglietti per un disabile come per i norma adorati. I prossimi concerti a cui Giorgia vorrebbe partecipare sono quelli di Alessandra Moroso ed Ultimo. Un messaggio attraverso i nostri microfoni lo manda anche a loro. Quali concerti hai dovuto rinunciare fino ad oggi? Purtroppo ai concerti dell'Amoroso e di Ultimo a cui non ho riuscito a trovare i biglietti. e vorrei che anche questi cantanti famosi dessero una voce alle persone che come me hanno difficoltà e che magari anche loro per primi fossero messi a conoscenza delle difficoltà.